Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo, ok? Se no, gli calo le mutande io. Questo il messaggio raccapricciante, inviato dalla direttrice di un supermercato sulla chat WhatsApp dei capireparto dopo aver trovato un assorbente fuori dal cestino del bagno. Al rifiuto dei dipendenti a comunicare il nome, la violenza da verbale si è trasformata in fisica. Il grave episodio è avvenuto alcune settimane fa presso un supermercato della città di Pescara. Sulla vicenda è intervenuta la Filcams CGL. Il sindacato conferma come questo sia purtroppo l'ennesimo episodio di mobbing nei confronti di lavoratrici e lavoratori e si dice pronta a portare il caso in procura. Quello che possiamo dire è che il fatto che noi stiamo raccontando oggi è che in un negozio della provincia di Pescara che opera sotto l'insegna Conad del gruppo Conad è avvenuto un fatto assurdo perché la responsabile di questo negozio ha mandato un messaggio audio ai responsabili di quel negozio chiedendo che venisse identificata la persona che era responsabile di questa cosa terribile che era successa minacciando per ripercussioni, lettere di richiamo e arrivando a dire sostanzialmente che se non fosse uscito il responsabile addirittura era disponibile a scendere gli indumenti intimi di queste donne che erano in servizio. Quindi ha chiesto l'elenco di queste persone e nei confronti di queste persone ha fatto una serie di minacce se può essere esatto perché si parla di lettere di contestazioni e si parla anche di mancata conferma si parlerebbe perché poi sono tutta una serie di fatti che andranno anche accertati in qualche modo eventualmente da altri, non da noi, ma ci potrebbero essere anche queste minacce di mancate conferme di contratti a tempi determinati o di ripercussioni. Il mondo del commercio è un mondo fatto in gran parte di donne che sono soggetti deboli ma non soltanto in quanto donne ma perché hanno problemi anche familiari che li comportano carichi e problemi di conciliazione di tempi di vita rendere la vita difficile una donna in un negozio è una cosa facilissima purtroppo e avviene purtroppo molto spesso, non soltanto in questi contesti ma anche in contesti di grandi gruppi perché spesso i negozi hanno pochissime commesse, spesso anche andare in bagno è difficile per una donna o anche per un uomo voglio dire e ci creano situazioni di questo genere questo succede troppo spesso, questo è quello che crediamo e questo è quello che denunciamo.